cosa dice qua? questo in prova apro vai che devi fare? scusami va gonfiato? no non va gonfiato c'è la schiuma dicono vieni un po' qui la gonfiata a cosa? a schiato? no 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 non può andare gonfiato a fiato c'è scritto che si faceva tutto da sé auto gonfiante cosa dice? in in vedi per chi? out in io non capisco c'è un'istruzione prima di rompilo in verità ci potrebbe anche essere quella è quando si sgonfia aspetta aspetta che lui fa vedere che devi spostare questo c'è il filino apposta per tirarlo eh se va? no ci fa vedere che va girato uno che va girato Apri l'Auster e lo giri subito. Theo, secondo te? Eh. Ma io che cavolo non so. Amo, guarda, dammi retta, prendi l'istruzione. Ok. L'istruzione fa un lanciano, eh. Allora. Vedi che qua dice che va girato. Questa cosa su in e out. C'è lo stesso disegno. Va girato come? Cosa vuol dire va girato? Poi devi chiudere con in. Allora. Non capisco cosa voglia dire questo giro qua. Out e in. Dici si gonfia tre minuti, noi tre minuti ancora non si è capito come. Allora. Uno. Srotolare l'ho fatto. Aprire la cerniera. Quale cerniera? Dice che c'è una cerniera. Ma si è già aperta? Sì. 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 Per stop? No. Poi qua fa vedere out, in. In. Deve fare clicca. Ma clicca che cosa? Deve fare clicca. Ma clicca che cosa? Anche cerno. Sì. Sì. Come fa bene alto come quello che si è visto eh. No è venuto. Forse devi dare il via. Si sta gonfiando infatti. Ma che vuoi dire che tutte le sere bisogna stare a gonfiare qui? Si è gonfiato. Si è gonfiato? Sì. Ma mica tutto. Si sta gonfiando. Mi sembra gonfio eh. Mi sembra gonfio eh. Titino. Perfetto. Forse gli va dato... Clicca. Apposto. Comodo. Sì. mamma si prova materassi